Alla Dispoli è tutto pronto per la Sagra del Carciofo che torna dopo quattro anni. Un grande cartellone di intrattenimento musicale e folclore nell'ambito di una festa molto attesa. Finalmente riusciamo a farla, ci sono grandi aspettative e noi non vogliamo deluderle. Infatti abbiamo preso degli artisti anche molto importanti per gli spettacoli serali del sabato e della domenica. Abbiamo ripristinato il castellaccio dei Monteroni, facciamo una cosa bellissima guidata e recitata. Insomma ce l'abbiamo messa tutta per far ripartire con la primavera, risvegliamo la città.